every breath you take every breath you take beh potremmo cominciare così perché la musica nei libri di Brett Easton Ellis come voi sapete è sempre la protagonista c'è una chiave, un codice di racconto generazionale e peraltro le canzoni, i gruppi che Brett cita anche in questo bellissimo nuovo romanzo dai Clash ai Police agli Squeeze ma anche a un pop più semplice che ne so i Buggles di Video Kill the Radio Star sono anche le canzoni della mia generazione perché purtroppo anch'io sono del 64 quest'anno vado ai 60 la cosa mi fa incazzare parecchio ma ci arriviamo io volevo partire invece da qui facendo un piccolo passo indietro che credo Brett riconoscerà subito dieci e undici produttori erano stati trovati morti in diverse ville di Bel Air avevo messo l'autografo per una giovane creatura su una bustina di fiammiferi di Jones nella mia scrittura praticamente illegibile avevo fantasticato di pubblicare il mio diario su Details erano saldi da Maxfield ma noi non avevamo pazienza aperitivi con i di Pesh Maud tante persone che conoscevamo di vista erano morte o scomparse durante quelle settimane incidenti di macchina, AIDS omicidio, overdose travolte da un camion, cadute o forse spinte dentro vasche di acido al punto che l'ammontare della cifra spesa in corone funebri sulla visa di Clos si aggirava sui 5.000 dollari io ero bellissimo questa è una pagina fulminante di Glamorama un libro di più di vent'anni fa è uscito in Italia nel 2000 quindi credo che abbia almeno 24 anni è un libro che ancora oggi è impressionante di una potenza letteraria e di una sfacciataggine stilistica e letteraria che poi è il codice letterario a cui la letteratura di Bretis Connelli ci ha abituato e devo dire che trovo quel libro per me come dire sconfinato dal punto di vista dell'attenzione del lettore perché è un libro che non finisco mai di leggere esattamente come le schegge che cosa hanno in comune secondo me in particolare questo libro e Glamorama e che sono libri che una volta che li hai chiusi hai paradossalmente l'impressione di non averli letti cioè c'è una sensazione di rarefazione della lettura come se la scrittura di Ellis ci portasse verso una forma di come se lui cercasse di raccontarci l'incomprensibilità delle cose come se la sua scrittura così puntigliosa così insistita così ossessiva sui dettagli del mondo che lui descrive che è un mondo degli anni 80 che lui guarda con lo sguardo rivolto al passato il narratore di questo libro dal presente guarda all'indietro e riguarda questo protagonista che è Brett che ha 17 anni e che naturalmente vive in un mondo stellato dove il denaro è l'unica legge un mondo di griff di macchine sportive di Mercedes decapotabili di marche cioè tutto questo mondo sfavillante di questo occidente in decadenza a cui ci è abituato dai tempi di meno di zero e regole dell'attrazione poi con American Psycho che diventa se vogliamo anche il grande capolavoro profetico della decadenza dell'Occidente ebbene questo non capire secondo me questo non arrivare non avere la possibilità di riassumere un libro come questo dopo diremo qualcosa sulla trama ma non più di tanto perché la storia in Ellis non è importante provo che la storia sia sempre un pretesto la potenza della scrittura è enorme io ho voluto cominciare con quel breve pezzo di Glamorama perché per dargli anche un senso per chi non lo conoscesse ma credo che qui sono tutti fans di Brett per dargli anche un senso del tocco dello scrittore un po' come non lo so quando Clapton accorda la chitarra prima di suonare la corda poi magari fa un piccolo riff e lo fa mentre sta parlando con il tecnico dicendogli magari di alzare il volume della spia e tu in quel momento senti Clapton nello stesso modo senti Brattiston Ellis e cosa volevo dire con questo poi vediamo di entrare più nel merito del libro che questa difficoltà di comprensione questo nulla da capire veramente che riguarda la letteratura di un grande scrittore come lui ha a che fare proprio con la bellezza dell'incomprensibilità delle cose autenticamente belle cioè pretendere di capire Ellis è come pretendere di capire il jazz o è come pretendere di capire la pioggia e c'è da capire nella pioggia nulla eppure staremmo per ore a guardarla sentendo rimestare una serie di scorie psichiche che ci fa un po' male però è un dolore che non è privo di piacere ecco la letteratura di Brattiston Ellis è così ha un'incomprensibilità di fondo ha una apparente leggerezza e superficialità che invece presuppone un'accurata un'accurata conoscenza del mondo che racconta io partirei da una considerazione perché la voce di Ellis è così importante nella letteratura e il primo la prima domanda che mi sento di fargli è che tu sei uno scrittore destinato non ho capito bene perché a essere preso sempre maledettamente alla lettera prendere alla lettera Ellis significa sostanzialmente fare un'operazione un po' stupida dal punto di vista critico dal punto di vista della lettura perché prendere alla lettera un autore come lui significa in qualche modo considerarlo responsabile di quanto ha scritto quasi che fosse colpevole della sua scrittura è questo pregiudizio stupido che considera come se il letteratore commettesse ciò che scrive nei libri ed è un po' il destino della letteratura quello di il lettore moralista cerca sempre vorrebbe prendere in flagranza lo scrittore per accusarlo di un crimine che non ha commesso ma ha scritto ma nella stupidità del lettore ignorante queste due categorie diventano sinonime ora tu hai scritto un altro libro molto bello che si chiama Bianco dove hai affrontato questo argomento hai affrontato la difficoltà del tempo di questo movimento subculturale che sta cercando di attentare alla libertà della letteratura di dire tutto quanto vuole e se la letteratura non è il luogo della totale anarchia non è nulla allora vorrei chiederti questo dopo 13 anni tu torni alla narrativa con le schegge e lo fai con la stessa voce spietatamente consapevole determinata e strafottente del contesto culturale in cui si immerge lo fai nello stesso modo in cui hai sempre lavorato oggi che senso ha scrivere un libro del genere in una realtà in un contesto culturale che sta addirittura pretendendo di rieditare Agatha Christie perché ci sono parole che non si possono più dire non si può più dire grasso si può più dire non so potrei fare molti altri esempi ma ci siamo capiti che senso ha avuto per te oggi darci un libro così mi sembri molto più intelligente di me quindi perché non continuare molto più intelligente di me molto più intelligente di me e conosci la mia narrativa forse meglio di quanto la conosca io e questo non è una gioco non sto scherzando potrei continuare ad ascoltarti e te ne sarei anche molto grato per i prossimi 45 non so dove iniziare non so dove iniziare guarda un novel è un sentimento è un processo emotivo un novel non è qualcosa che decidi scrivere un settembre e non d'è non d'è i think i'm going to write the shards things or american psycho or less than zero years have been building sometimes less than years sometimes months but things are swirling around in your mind and you're feeling things and these things are bothering you and they're usually about pain and you want to figure it out and the way I figure out my life and the way that I process the problems I've come across in my life whether it's a very problematic father whether it's unrequited love whether it's working in Hollywood I tend to go to a book and in the book I kind of break down my pain and I kind of heal myself I understand it better I understand why I am at this particular period in my life so that's how I work every book I've written is a reflection of where I was at the age I wrote the book and yes I started the shards in 1982 when I was 18 years old in a series of events at the Buckley School the high school I went to happened to me and I put aside the less than zero project I'd been working on for three years because the shards seemed so much more dramatic so much more pressing so much more emotional to me but I didn't have the I don't know the talent or I couldn't figure out all of these characters and these symphonic movements and this big narrative I could do less than zero I could write that I couldn't write the shards at 18 so but I could write the shards at 56 I could write the shards at 56 because I realized all the times I tried writing the shards was in that less less than zero voice the shards in 1982 started out with I am driving to Malibu Blondie is on the stereo I am hung over from the coke I took last night Debbie is waiting for me in the arena it is a cloudy day okay that's kind of how I started writing the shards and I realized this can't sustain itself for 500 pages so I put it aside and basically in the early months of 2020 before the lockdown I began to become haunted by these friends I went to high school with I wanted to know why I was haunted by them why were they following me around why couldn't I get them out of my mind and that was the beginning of opening the door and beginning the shards now so that was an emotional thing it wasn't an intellectual thing I wasn't thinking about like oh what can't you say now and then I'm going to put that in a book and I'm going to like you know I don't write for anybody I write for myself as a dedication says in the shards for no one that's how every book is it's not written for the reader it's written for me it's not written for a publisher or an agent or anything I just don't work that way I'm not a career writer I write because it's a hobby and you know you are supposed to tap me when I go too long and you're supposed to say stop I'm just too busy taking notes Allora scrivere un romanzo per me è un processo molto emotivo non è che io mi svegli una mattina e decida di mettermi a scrivere un libro ed è sempre successo così è successo così con le sketch è successo con American Psycho ed è successo con l'Eston Zero sono processi che durano talvolta anni talvolta mesi c'è queste idee che mi girano in testa per molto tempo e normalmente questo nasce questo succede quando me lo sento dentro quando c'è qualcosa che mi dà fastidio quando c'è qualcosa che mi crea tendenzialmente dolore e io allora cerco di capire che cos'è che mi provoca questo dolore il modo che io ho il metodo che seguo per elaborare i miei problemi che si tratti di un padre problematico oppure di un amore non corrisposto oppure di lavorare a Hollywood ecco io lo faccio andando verso un libro scrivendo un libro ed è con la scrittura di un libro che io smantello faccio a pezzi questo mio dolore e riesco veramente a sentire me stesso e riesco a capire meglio perché provo quel dolore perché sto in quel modo ogni libro che ho scritto riflette il breath di quel momento di quella di quell'età io ho iniziato in realtà a scrivere le schegge nel 1982 quando avevo 18 anni quando frequentavo la Buckley la scuola superiore di cui parlo nel libro che frequentavo a quell'età stavo già scrivendo meno di zero ma ho deciso di metterlo un attimo da parte di accantonarlo perché mi sembrava che la storia delle schegge fosse più pressante fosse più drammatica però all'epoca non avevo la capacità forse non avevo il talento di scrivere di questo movimento sinfonico di tutti questi personaggi per scrivere meno di zero sì ma non per scrivere le schegge a 18 anni ma invece la capacità ce l'avevo e ce l'ho avuta a 56 anni quando avevo iniziato a scriverlo nel 1982 continuavo ad usare la voce di meno di zero e quindi scrivevo iniziavo a scrivere così ad esempio sto in macchina sto andando a Malibu dalla radio esce una canzone di Blondie ho i postumi della sbronza perché ieri sera mi sono fatto di coca c'è Debbie che mi aspetta il cielo è pieno di nuvole scrivevo in questo modo ma questo stile non poteva sostenersi per una storia così complessa come quella delle schegge invece poi nei primi mesi del 2020 poco prima del lockdown mi sono reso conto che iniziavo a ritornare col pensiero ero quasi ossessionato e tormentato dal pensiero dei miei amici di scuola volevo capire perché perché avevo questo pensiero che mi tormentava e questo mi ha aperto la porta e ho iniziato a scrivere le schegge quindi è stato un processo profondamente emotivo non ho deciso di devo scrivere questo libro adesso in quest'epoca in questo modo è stato proprio un processo emotivo e peraltro io scrivo solo per me stesso non scrivo mai per il lettore non scrivo per un agente non scrivo per una casa editrice non sono uno scrittore di professione scrivo per hobby e poi nel 1982 c'era una libertà di cui non godiamo più i giovani soprattutto vivevano di una libertà di cui non godono oggi e questo è stato un altro stimolo che mi ha portato a scrivere le schegge potrei andare avanti ma magari allora è meglio fare un'altra domanda beh allora la cosa molto interessante è che quando tu pensi che questo libro è scritto da una voce presente che si volge al passato ti aspetteresti un tono diciamo un po' più sapiente un po' più espertizzato dagli anni vissuti rispetto a quelli che racconta siamo comunque nel 1981 e lui è il brett del protagonista di questo libro ha 17 anni ha la patente ma questo gli permette di guidare lungo la Mulholland Drive con macchine costosissime vive da solo con una cameriesa o dicendo una badante una cameriera latina che si prende cura di lui è un cane è sfondato di soldi come tutti i suoi amici i genitori non ci sono mai perché ricchi sfondati ovviamente vanno in giro per il mondo cercando di mettere rimettere insieme il loro matrimonio però uno si aspetterebbe ripeto da un racconto di questo tipo la costellazione dei personaggi chi ha letto il libro lo sa c'è questa coppia Tom e Susan che sono bellissimi che sono già suoi compagni nella scuola e come nel classico del cinema americano sono tutti e due bellissimi e si mettono insieme come dicevo dalle mie parti si apparano a terra questa non so come la tradurrai ma in Naples si diceva si apparanander oddio il proverbio è un po' più lungo magari te lo spiego a cena allora uno si aspetterebbe una voce un pochettino più distaccata più consapevole e invece la grande capacità di Alice è quella di riprendere la voce di quel tempo e di cercare di ricostruire la costellazione dei suoi amici del suo ambiente attraverso lo stesso tipo di sguardo che aveva nei libri precedenti questa non è una ripetizione questa è una forma di rinnovazione è come se non è che lui fa una cover di se stesso lui ogni volta riesce a trovare la voce giusta un'intonazione perfetta e le prime 100-150 pagine soprattutto sono impressionanti da questo punto di vista perché come al solito dirige controlla la pagina con enorme maestria accanto a questo mondo che è il mondo a cui ci è abituato appunto il mondo soprattutto del denaro della ricchezza della cocaina dell'oxanax questi ragazzi che tirano e consumano con cocaina come se come se la producessero loro no? e che che hanno questa vita fatta di sperperi un po' come la riccanza che abbiamo visto in Italia non so chi di voi ha visto quell'orrendo quell'orrenda serie che facevano in televisione che era antropologicamente interessantissima e poi c'è quest'altra linea di questo serial killer che è il pescatore astrascico che un po' ci richiama le atmosfere di un altro meraviglioso libro di Brett che è Lunar Park e ci sono prodotti dei tratti horror e lì lui ancora una volta con la maestria che gli riconosciamo dai tempi di American Psycho ci parla di questo pescatore lo accenna all'inizio del libro e poi noi ci aspettiamo di trovarlo di lì a una decina di pagine arriva tipo 200 pagine dopo continua ad infarcirci la testa di sospetti ma rimane nella descrizione della costellazione meravigliosa del billionaire di quel mondo e ogni volta che poi entra nella descrizione anche dei particolari più truculenti questa è la grande caratteristica che mi viene voglia veramente di dirgli ma come cazzo fa la sua scrittura è costantemente attraversata da una corrente ridicola come in American Psycho che riusciva a farti ridere continuamente e tu ti accorgevi con imbarazzo che riuscivi a trovare divertente addirittura la descrizione sarcastica di momenti e di passaggi veramente impressionanti e raccapriccianti ecco questa è una cosa in un certo senso inspiegabile è quando la letteratura viene attraversata da una musica assolutamente personale che solo quello scrittore ha ecco questa è un'altra domanda che io volevo farti il sarcasmo è una forma narrativa è una chiave di narrazione che ti appartiene secondo me biologicamente o forse semplicemente musicalmente quando tu la usi quello che io percepisco da lettore è una totale strafottenza verso la possibilità che il lettore ti rifiuti cioè Alice non è uno che vuole piacere questo concetto lo esprime chiaramente in una frase quando dice quando andavamo al cinema io e i miei amici stiamo parlando di un bretto giovanissimo appunto non andavamo al cinema per divertirci non andavamo al cinema per distrarci andavamo al cinema per essere disgustati per essere come dire aggrediti dal film per essere maltrattati dall'opera e io credo che in fondo banalizzando molto sia questa o meglio anche questa la chiave della tua scrittura non andavamo Sarcasm. Sarcasm. I don't know if I think I, I'm not sure I use sarcasm so much in this book. This in many ways is a very earnest book. It's a book about compassion and it's a book about love. And it's also a book about the end of childhood, the end of adolescence, the demarcation between adolescence and adulthood, which is corruption. And the corruption is spelled out or exemplified in many ways in this book, the serial killer being one of them. And also, most importantly, Brett not being able to control his superpower. Now, Brett is a writer. He's a burgeoning writer. He's working on less than zero in the shards. So this is a bit of auto fiction, I suppose. But the Brett in the book is very much who I was at 17. And even more so now, when I was writing the book at 56 and 57, I was, it was, it was time. It was time. I couldn't hold it in anymore. I wanted to write about Matt Kellner and Ryan Vaughn and Tom Wright and Susan Reynolds and Debbie Schaefer and all these people that I had these close connections with that all kind of got ruined. They all kind of got fucked up. My fault, not theirs. My fault. I was a bit of an actor. I was a gossip. I was a writer who couldn't control my urges to see the world in the way that I wanted to see it. I was gay. That was the other problem. I never, ever had a problem being gay ever. I found out when I was like eight, eight or nine, I realized I was gay. Oh, okay. Whatever. That's just another thing I have to deal with. Gayness was never my identity. I love books. I love movies. I was in bands. I had a full life of going to the cinema, reading novels, playing in bands, pop music, being gay was like, okay, that's one thing that's over here. But it was never my identity and I never identified as it, except at 17. 17 was the only year where I hated it and I didn't like being gay because I looked at my straight counterparts, my best straight male friends, and realized that the world was very open to them in a way that it was never going to be for me. They were going to have a freedom that I was not going to have. And I began to resent that. I began to resent the fact that I fell in love with them, but could never have them. Yet they could fall in love with the women, the girls in our class and could easily have them. I realized that I realized that I was on my own plane and I had to process that and I resented it. I didn't like that. And that really is the driving engine. That is the plot of the shards. That is what drives this entire thing from beginning to end is this introduction of this mysterious character, this senior boy who comes to the prep school Brett is at. And he becomes obsessed with him sexually and also on another level where he begins to believe that he's going to screw up all the plans Brett has made to get through this senior year with a fake girlfriend and with having sex with two boys on the, what we say now, the down low, who no one was out of the closet or anything. And so what Brett does is he begins to rewrite this, this interloper, this stranger. And that really is the engine of the book. Brett amassing all of this evidence, connecting this boy, Robert Mallory, Robert Mallory to the trawler. He begins to see all of these coincidences and you begin to see them too, as you're reading the book. And I'm not going to give away the ending or whatever happens at the end of the book. Some, some things are very, very clear. I think some people are like thinking, well, what really happened? No, it's very, it's very clear. And I'm not going to spoil it for those who haven't read it. If you read it carefully, you know, exactly what happened. Um, so, um, so that was, it was, it was the, the overriding force was looking back at 17 nostalgia for a city and a world that is gone. Uh, and, uh, it all beginning to haunt me at the right age, my late fifties, you know, it happened with Quentin Tarantino. Once upon a time in Hollywood, who I was talking to on, he said, I had to do this movie because I wanted to write about my childhood. I want to make a movie about my childhood and I definitely wanted to make a movie without a cell phone in it. And, um, he said, didn't it feel so great to write the shards and not have to deal with the cell phone, which ruins everything for every movie and every mystery. So, anyway, uh, you could have tapped me, you could have tapped me, but anyway. Scusate, all'inizio mi sono un po' distratto perché stavo cercando di capire chi sono il più bello e la più bella di questa sala, quindi mi sono un po' distratto quando hai fatto la domanda. Comunque, hai citato il sarcasmo. In realtà non sono sicuro che in questo libro ci sia tanto sarcasmo, c'è più compassione, c'è più amore. Si parla della fine dell'infanzia, del passaggio invece all'età adulta e questo passaggio che viene marcato fondamentalmente dalla corruzione. Corruzione che viene esemplificata, ad esempio, tra le altre cose, dalla presenza di un serial killer. Però è proprio... e poi si parla di Brett che non riesce a controllare il suo superpotere perché Brett è uno scrittore, in questo senso è un po' autobiografico perché il Brett delle schegge sta scrivendo meno di zero. E' molto simile a me quando avevo 17 anni ed era... a 56-57 anni ho capito che era giunto il momento di parlare di questo ragazzo e di tutto quello che era successo con i suoi amici che nel libro chiamo Ryan Bond, Debbie Schaefer, Susan, Tom, persone che io conoscevo a scuola e con cui a un certo punto i rapporti sono andati a gambi all'aria per colpa mia. E' stata colpa mia se li ho mandati a farsi friggere e quindi insomma ho voluto scrivere un romanzo per parlare di come io all'epoca vedevo il mondo e perché a quell'età avevo iniziato a interpretare, a vedere il mondo come volevo io e in più ero gay. Tra l'altro io ho scoperto molto presto di essere omosessuale, intorno agli 8-9 anni e la cosa non mi ha mai dato fastidio perché non era la mia identità. Io ero molto altre cose, amavo i libri, andavo ad andare al cinema, suonavo in una band, avevo tanti altri interessi quindi essere gay era una delle tante cose ma non mi ha mai definito tranne che a 17 anni perché a 17 anni invece ho proprio iniziato a odiare e a darmi fastidio nel fatto di essere omosessuale perché vedevo i miei amici invece ero eterosessuali e mi rendevo conto che avrebbero avuto una vita molto più facile rispetto a me. Per loro il mondo era completamente aperto, per me no, potevano vivere in modo più libero, avevano una libertà che io non avevo e questo mi faceva molto arrabbiare. Si potevano innamorare di una ragazza a scuola e questo insomma sarebbe stato poi anche facile riuscire a conquistarla, per me era molto più difficile innamorarmi di qualcuno e riuscire ad averlo. Mi sentivo un po' da solo e questo mi faceva arrabbiare. Questa è stata la forza trainante dietro le schegge dall'inizio alla fine. Brett è ossessionato perché arriva questo personaggio particolare, questo ragazzo dell'ultimo anno molto misterioso e Brett inizia ad essere ossessionato da lui per diverse ragioni. Innanzitutto ne è ossessionato sessualmente perché prova molta attrazione, ma teme anche che l'arrivo di questo Robert Mallory possa distruggere il piano che si era fatto per superare questo ultimo anno di scuola superiore in cui si era messo insieme ad una ragazza diciamo un po' per apparenza, in cui però in realtà aveva anche delle relazioni nascoste perché all'epoca nessuno diceva apertamente di essere gay con due ragazze e quindi inizia a riscrivere questo personaggio, questa persona che è arrivata e che lui appunto per cui prova un'ossessione e inizia dunque a mettere insieme i pezzi e intrecciare la storia di questo Robert Mallory con la storia del pescatore. Inizia a pescare, a vedere tutta una serie di coincidenze e pian piano anche il lettore inizia a cogliere queste coincidenze, questi punti di connessione. Quello che succede in realtà è molto molto chiaro, anche se c'è chi dice che non si capisce come finisca il libro e non spoilerò niente, in realtà secondo me se si legge attentamente è tutto molto molto chiaro. Comunque il libro nasce da questa fortissima nostalgia per una città che non esiste più, per un tempo che non esiste più e questa idea, questo afflato di nostalgia mi è venuto all'età giusta, a 56-57 anni, la stessa cosa che è successo a Tarantino quando ha scritto C'era una volta a Hollywood perché ha detto che voleva scrivere un libro, perdono, voleva girare un film sulla sua gioventù senza telefoni cellulari e devo dire è stato bellissimo anche scrivere un libro dove non ci sono telefoni cellulari che peraltro rovinano tutto quando c'è un mistero, un horror, qualcosa, la presenza di uno smartphone rovina tutto. Beh, Tarantino secondo me fa i suoi film per giustiziare cinematograficamente i figli di puttana che l'hanno fatta Franca e ci fai caso in tutti i suoi film lui sistematicamente uccide i pezzi di merda, tutti. Lo fa in Glorious Basterds, lo fa in questo, lo fa in tutti i film perché è bellissimo quest'idea che l'arte sia una forma di riscatto, di rivincita su ciò che non è stato. In fondo la letteratura è anche il modo che noi abbiamo di raccontare ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. No? Sarebbe potuto essere e non è stato. E anche, I musti add, Quentin Tarantino writes screenplays like novels. He doesn't write them like screenplays, he writes them as novels. I've seen the screenplays, there's chapter headings, as if you've seen his movies. He doesn't follow the 1-2-3 act. He feels himself as a novelist and not a screenwriter. So, that's why his movies are so long, they're digressive, they're very novelistic, they have scenes that, I mean, what movies open with a scene that's 24 minutes long, like in Glorious Basterds? He said, well no, no movies are supposed to, but I write novels, so I just wanted to add that in. Volevo solo aggiungere che peraltro Tarantino scrive i suoi copioni come se fosse solo dei romanzi, mette i titoli ai capitoli, lo fa anche nei film e anche nei copioni, cioè veramente non segue la struttura tipica. Quale altro film inizia con una sequenza d'apertura che dura 24 minuti, come Bastardi senza gloria? Lui lo sa che i film, però, si sente lui stesso un narratore di romanzi. Sì, ma infatti sono belli. Però volevo dire una cosa, Brett diceva sulla mia osservazione del sarcasmo che in realtà questo è un libro pieno di compassione e di amore, è vero che è un libro romantico, è un libro fortemente romantico, ma quello che rende unica la sua scrittura è che invece la chiave, attraverso la voce che lui usa per raccontare questo romanticismo di un tempo che era stato per riordinarlo, è come dire, ti lascia spiazzato, anche perché ti fa ridere incostantemente, perché sfotte. Poi, Ellis è uno che, come dire, è uno che non si prende sul serio, però attenzione, io vorrei dire qualcosa su questo luogo comune del non prendersi sul serio. Per non prendersi sul serio, per essere capaci di ridere di sé, ci vuole talento. Non è che qualsiasi cretino può non prendersi sul serio. Per non prendersi sul serio bisogna saperlo fare. bisogna avere un'identità molto strutturata, no? E non essere un qualsiasi imbecille che ho ho come ride di sé. Insomma, secondo me dovremmo farla un po' finita con questa libertà di espressione. Dovrebbero esprimersi quelli che hanno qualche cosa da dire veramente. Ecco, lui ce l'ha. Però volevo dire questo, riguardo al sarcasmo, che è l'idea che lui riesca a trasmettere anche questa sensazione di compassione in maniera non aggressiva, ma facendoti sempre ridere. Per esempio, la descrizione dello stile dei ragazzi del tempo. A un certo punto cita il giardino dei Fienzi Contini. Questa cosa io l'ho trovata bellissima perché immediatamente con un colpo d'occhio tu rivedi, no? Rivedi una galleria di personaggi, dei piccoli dettagli. Io per esempio ignoravo che negli anni Ottanta in America, tra i billionaire, ci fosse quell'orrenda moda del colletto dell'Apollo Realzato. Da noi è arrivato molto più tardi. Ed è una di quelle cafonate veramente insopportabili che ancora adesso io quando vedo qualcuno per strada mi giro come a dire ma come cazzo, ma come vai in giro in quel modo? Quando tu fai queste descrizioni... Io pensavo fosse molto figo. No, forse per voi lo era, per noi ti assicuro di no. Vabbè, ma noi sai, qua abbiamo un po' il complesso di Alberto Sordi. E' mazza America! Cioè viene un po' quello quando tu li vedi, no? Ti posso assicurare che in Italia stanno malissimo i colletti realzati. Mentre invece mi piacciono tante i Wayfarer, io ne ho un paio bellissimo, introvabile, azzurro, stupendo. Quindi, anche tu quando entri nel merito di queste descrizioni e quando per esempio parli dei video, tu parli del primo video di Video Killed Radio Star dei Buggles come se fosse l'anticipatore di qualche cosa di più. Video Killed Radio Star, una canzone degli anni Ottanta dei Buggles. che poi era il gruppo di Trevor Horn che poi è stato uno dei più grandi produttori musicali degli anni Ottanta e Novanta. Ebbene, anche quando tu dici questo, si sente una gentilezza con cui tu racconti questo mondo da cui vieni. Però non riesci mai a... non scivoli mai nel patetico. In questo io trovo... Ecco, voglio avere ragione sul salcasmo. Mi dai ragione? I have two words for you. American Psycho. American Psycho. A very different book. A very different age. 23, 24, 25. Angry at the world. Wanting to write something that exposed my rage at having to become an adult in a society I didn't believe in. Writing about myself through Patrick Bateman. That is a book that reflects my 20s and reflects the person I was. And I think American Psycho is a very, very funny book. I mean, I laughed out loud when I was writing it. I saw it as a horrible black comedy filled also with horrifying, horrifying scenes of brutality and violence. And I like that juxtaposition. And I... There were things about Patrick Bateman that appalled me and there were things about him that I thought were very sympathetic. But that is a book I would never write again, ever in my life. I would never sit down and write American Psycho now because I don't feel that way. So there... Every book is a book that I wrote at a particular time in my life where I was feeling that. Less than zero? Could I write less than zero now at 56? There's no way I would do it. Or the Rules of Attraction or Lunar Park or any of my other novels. But The Shards, though, was a very... Is a separate entity from the rest of the work. It's the work of an old man looking back on the past. And I have never done that before. I have never done that kind of book. It's all present tense. It's all happening in the now. It's all about a character who is my age when I'm writing the book. And The Shards is an act of nostalgia, an act of... I don't want to say sentimentality because I think my style really doesn't lean towards that. But it really was a way of wanting to write not only a historical recreation of the Los Angeles that I grew up in that is now lost, is completely gone because the movie theaters are gone, the coffee shops, the nightclubs, the places we hung out are all gone. And we didn't curate them. We didn't take a million pictures and put them on an Instagram or something. So there's very little historical record of these places on the internet. You cannot find the Galleria, which was the hottest red-hot center spot for teenagers in Southern California in 1982. Go on the internet, try to find pictures of it. They don't exist. You have to watch Fast Times at Ridgemont High to get some sense of what the Galleria looked like in 1982. It was from memory. I mean, for me, it was just from memory. So I don't know. The person who wrote The Shards is feeling a nostalgic mood and is feeling that he has to explain himself to the friends he betrayed. And that's a very different kind of book than The Lashing Out of American Psycho or the depth into celebrity that I dove into with Glamorama when I found myself post-American Psycho to become this celebrity, this person. I wasn't. I knew I wasn't. But globally, I was considered this thing, this prince of darkness. and that informed Glamorama. That informed the whole double thing that was going on in Glamorama. So that was a reflection also of where I was at that time. And The Shards is a reflection of where I was during those years I wrote it. A very small book I wrote called Imperial Bedrooms is basically a journal. It is a totally factual journal of what went wrong during the making of a movie and a person I fell in love with who wanted a part in the movie. Those were journal entries. Yes, there's a drug cartel and some murders but Imperial Bedrooms when I look at that book now is that is a you know bare bones stripped down honest representation of Brett Ellis than I've ever written in my life. And I was in a lot of pain then and the pain radiates off that page. I think The Shards is a very very different book from the other books that I've written. And so I think each book changes as you change. I don't see any of my books being similar in that regard which means I'm an emotional writer. I am not an over intellectualized writer. I write what I'm feeling and that is and if there are connections to be made and you can see threads connecting the books sure that's fine but my main impulse to write is not to impress you. My main impulse to write is to rid myself of being haunted by things and feeling things that are distracting me and making it hard to get on with life. Rispondo innanzitutto con due parole cioè American Psycho che è un libro completamente diverso che ho scritto quando avevo 23, 24, 25 anni e che era un'espressione di quanto io fossi arrabbiato nei confronti del mondo. Era lo scritto per esprimere la mia rabbia perché stavo diventando adulto e stavo diventando adulto in una società in cui non mi riconoscevo in cui non credevo e l'ho fatto attraverso la storia di Patrick Bateman che oltretutto mi ha fatto molto ridere scrivere questo libro cioè mi rendevo conto che era una black comedy con anche delle scene davvero terribili orripilanti ma devo dire che mi sono fatto grandi risate scrivendolo però quel libro rappresentava me a quell'età in quel periodo e ho scritto cose di Patrick Bateman che mi orripilavano ma anche delle cose che invece mi provocavano grande empatia non lo scriverei mai però adesso perché non mi sento in quel modo ogni libro che ho scritto riflette il modo in cui io mi sentivo in quel preciso momento meno di zero non potrei mai scriverlo adesso e così anche tutti gli altri libri Lunar Park le regole dell'attrazione parlano di me in quel preciso momento ma le schegge forse un po' separato rispetto a tutti gli altri libri che ho scritto perché in questo caso c'è un uomo più grande che si guarda indietro e che racconta il passato questo io non l'avevo mai fatto prima tutti gli altri libri che ho scritto sono sempre scritti al presente e i personaggi hanno la stessa età che avevo io in quel momento sono sempre raccontati nel momento invece in questo caso io mi guardo indietro ed è un atto di nostalgia non direi che è un atto di sentimentalismo perché questo non descrive il mio stile però certamente un atto di nostalgia è un tentativo di ricreare storicamente quello che era Los Angeles in quegli anni una Los Angeles che non esiste più non ci sono più i cinema non ci sono più i nightclub non ci sono più i caffè i bar che c'erano un tempo e peraltro non abbiamo neanche tanta memoria fotografica perché all'epoca appunto non andavamo in giro a fare le foto per Instagram quindi se vogliamo vedere ad esempio delle foto di The Gallery che era uno dei posti più fighi dove andavano i ragazzi i teenager degli anni 80 è difficile trovarne delle immagini e quindi The Sketch nasce dal desiderio di ripercorrere un atto di nostalgia e anche per spiegarmi per dare una spiegazione a questi amici di allora che ho tradito molto diverso dalla rabbia che c'è in American Psycho molto diverso dal mio prendere in giro il mondo delle celebrity di cui parlo in glamorama che ho scritto perché anche in quel momento ero diventata una celebrity mio malgrado dopo aver scritto American Psycho sono improvvisamente diventato famoso sapevo di non essere quella persona lì però ero globalmente riconosciuto come questa persona famosa il principe dell'oscurità ed è questo insomma ed è anche il motivo per cui c'è questo sdoppiamento di personaggi in glamorama Le Schegge rappresenta a me nel momento in cui l'ho scritto posso fare un altro esempio Imperial Bedrooms è invece proprio un diario è un diario che racconta esattamente quello che mi è successo stavamo cercando di produrre un film che poi è andato male mi ero anche innamorato di uno degli attori ed è veramente una rappresentazione una descrizione quasi minimalista molto scarna e grezza di quello che mi che mi succedeva e nasceva sì poi c'è anche la storia di un cartello della droga ma poco importa nasceva da un profondo dolore che io sentivo in quel momento come dicevo ogni libro cambia è cambiato con me nessuno è simile questo dimostra che io sono scrittore emotivo non sono scrittore particolarmente intellettuale se poi ci sono delle connessioni tra tutti i miei libri va bene ma ogni libro viene scritto partendo dalle emozioni di quel momento specifico per liberarmi da una qualche ossessione e per sentirmi appunto più liberato allora non so quanto la notizia ti interesserà ma io American Psycho lo leggo almeno due volte l'anno anche se il mio preferito è Glamorama comunque voglio dirti che tu sei uno dei responsabili del fatto di aprire questo mestiere non posso leggere alcuni miei libri è troppo difficile voglio solo editirli tutto il tempo non posso prendere American Psycho senza andare in freddo e voler re-write cose Glamorama è la stessa non ne ho mai mention Lesson Zero si finisce quando si finisce e sento che qualcosa si è ripetato da me great ho fatto as I was giving readings to it so the book does truly end and I think ok this is exactly what I wanted to do and then a year later I go oh my god why couldn't I have done this so that's the kind of writer I am but American Psycho two times a year whoa I'd be careful attenzione attenzione a leggere American Psycho due volte l'anno io farei un po' attenzione devo dire che invece io i miei libri non li rileggo mai perché se io mi mettessi adesso a rileggere American Psycho mi metto le mani nei capelli mi verrebbe voglia di riscriverlo tutto idem con glamorama per non parlare di meno di zero per me i libri finiscono quando finisco di scrivere l'ultima pagina si pubblicano per quello no per liberarsene poi li lascia andare nel mondo e sento che qualcosa mi sono liberato di un peso sono finiti sono finiti lì e non ho bisogno di di rileggerli anche se a volte mi capita che magari ho bevuto un po' troppo sono online qualcuno ha postato una pagina rilego qualcosa e mi dico madonna santa ma come l'ho scritto mi verrebbe voglia di cambiare lo faccio anche con le schegge mi è capitato di leggere di fare delle letture dal libro e mentre lo leggevo lo corretto cioè lo correggevo mentre lo leggevo ad alta voce perché anche dopo pochissimo mi viene già subito voglia di cambiare le cose che ho scritto e se le rilego dico ma perché l'ho scritto così avrei dovuto scrivere in un altro modo quindi non li rileggo mai eppure mi pagano volevo dire una cosa che la traduzione di Giuseppe Cunicchia è bellissima come sempre eccolo là e come ha scritto molto opportunamente Alessandro Piperno uno scrittore soltanto uno scrittore può riuscire a cogliere delle sfumature linguistiche così alte come quelle di un autore come Brett quindi Giuseppe oh veramente tanto è il mio traduttore da decenni e sono molto molto grato che sia lui il mio traduttore posso ricordare anche un traduttore che era un mio caro amico e un caro amico di tanti qui Francesco Durante che ha tradotto le regole dell'attrazione e l'edizione italiana è ancora la traduzione di Francesco che ci ha lasciato troppo presto ok volevo farti un'altra domanda volevo chiederti un'altra cosa poi magari visto che siete in tanti mi fermerei e darei spazio ai tuoi fan nel tuo libro ho trovato molto non detto cioè succede spesso che quando un personaggio fa una domanda all'altro la risposta che arriva è sempre un po' evasiva per esempio quando Mallory soffia Susan a Tom e gli domandano come sia successo loro rispondono e non rispondono gli alibi dei ragazzi la stessa cosa la stessa cosa quando Brett riceve la cassetta delle torture che il pescatore ha inflitto a uno dei suoi amanti tu ti domandi beh dovrebbe andare alla polizia non ci va lui non spiega lo capiremo molte pagine dopo quella cioè comunque c'è una certa reticenza di fondo che passa attraverso le parole e i dialoghi dei personaggi questa è una tua scelta stilistica e perché explana sono non affrontare non affrontare non affrontare I love mysteries and I love horror films and I like horror novels and I always have and I've always hated the endings because it's all explained and there's something deeply unsettling and very true to life about there not really being concrete answers to a lot of things that happened to us and I know that there have been some complaints about one key thing at the end of the shards that isn't fully answered though I don't think it matters if it is or not but there's something about that that is haunting it haunts me and I and it makes me think and it makes me start to put the book together in a in a new way and I start reading it differently and to me that's a very interesting thing I go back to American Psycho all the time and people still 30 years ask me did he do it did he not do it did he kill those people or did he not and I have to tell them I don't know I some days I did think he was doing it some days I didn't and what made it so interesting and compelling to write was that I didn't know and that the answer didn't really matter in the end that the mystery the mystery of it was the point of the book was the point of this society that he lived in so for me I think if I had answered that question back in 1991 I don't know if that book would be still be would still be talked about and so there is something about the the lack of total closure at the shards though again I must remind you if you're a smart reader you get it you know what happened you know what happened to Tom and Susan you know other things that are going on it is not that confusing people believe me it isn't it's it's the it's it's there um but certain things aren't little things aren't and to me that makes a book uh like books with unreliable narrators I found the first time I came across a book with an unreliable narrator I think it was Nabokov in college and I was so shocked when I first came to this moment where I realized this first person narrator is not telling me the truth oh my god I am now fascinated by who this person is so that's something that's always had an impact on me and I don't like books where every I is dotted every T is crossed I like a book to be expansive and to breathe and not answer all the questions that to me is an errorless dead book so um uh yeah a lot of there is a lot of evasion in this particular story because there's a lot of secrets a lot of secrets are being kept and that are eventually revealed there's a lot of twists people don't want people to know about things that they're doing that are ultimately revealed that ruin relationships and of course all of these conversations leading up to the explosive whatever someone said 150 200 pages that conclude the novel where everything is kind of revealed and everything does kind of get wrecked everything leading up to that yes are hushed evasions that's just built into the nature of this particular story and what diciamo che da se si danno troppe spiegazioni si perde un po il senso della della paura a me piacciono tantissimo i libri horrori film horrori i misteri e non mi piace per niente quando arriva la fine di un racconto horror o di un film non mi piace la fine quando viene tutto spiegato invece inquietante quando non si sa non si sa tutto ed è anche reale il fatto che in fondo non c'è la fine risposta a tutto quello che succede nella vita qualcuno si è lamentato in effetti di una cosa nello specifico che in questo libro non viene spiegata però secondo me così rende tutto più ossessionante rimane un po più che ti frulla nel cervello ti fa pensare rende la cosa molto molto più interessante secondo me e devo dire che per esempio con american psycho anche 30 anni dopo averlo scritto c'è ancora gente che mi chiede ma alla fine patrick basement li ha uccisi e non li ha uccisi cioè queste cose le ha fatte o non li ha fatte e io rispondo sempre non lo so perché ci sono stati giorni mentre scrivevo in cui pensavo che si le stava facendo veramente e giorni in cui invece pensavo che non li avesse fatte davvero ma è stato questo che credo così interessante scrivere questo questo libro non andare per forza risposte a tutto il punto di quel libro non era tanto dare una risposta ma proprio mantenere questo alone di incertezza e di e di mistero è vero che c'è qualcosa che manca nelle schegge non c'è una chiusura completa di tutto ma se si è un lettore intelligente abbastanza acuto in realtà tante cose si capiscono man mano si capisce che cosa sta succedendo a susan e toman non credetemi non è poi così confuso le cose le molte spiegazioni si si trovano anche se alcune piccole cose alcuni dettagli sono lasciati un po' irrisolti un'altra cosa che mi affascina molto nei romanzi è il concetto del narratore inaffidabile che ho scoperto per la prima volta con Nabokov che mi è tra l'altro mi è piaciuto tantissimo capire a un certo punto che il narratore questa prima persona che narrava non era affidabile non stava raccontando la verità ecco non mi piacciono i libri dove viene spiegato tutto io voglio che un libro respiri e invece se c'è tutto spiegato ogni singolo dettaglio il risultato è un po' asfittico e è vero che in questo libro c'è molta evasività ma perché un libro pieno di segreti ci sono cose che le persone non vogliono che gli altri sappiano e che poi invece man mano vengono rivelate e che distruggono le rovinano le relazioni fino ad arrivare poi insomma all'esplosione alla conclusione finale a cui portano queste 600 pagine però è vero che in tutta la storia di tante cose si sussurra non vengono non vengono dette ma è nella natura di questa di questa storia se come at this as a crime thriller a standard murder mystery where everything gets resolved you're going to be very very disappointed by it but if you come to this book as a coming of age novel about a group of friends and that are that are uh where a bunch of horrible things happen to them uh that's connected connected to a serial killer story then i think you're going to have a much easier time with it but don't go into this expecting this to be like a connect the dots you know agatha christie murder mystery with a very neat uh denoment you know denoment at the end i pronunciato right denoment denoment i don't know ending 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 very neat yeah allora e vi avverto che se vi approcciate a questo libro pensando che sia una classico giallo un classico mistero resterete molto delusi perché non è questo se invece vi avvicinate a questo libro pensando che sia un appunto una storia di formazione in cui si parla di un gruppo di amici a cui accadono anche delle cose terribili e poi le due piani si intrecciano allora sì però non aspettatevi appunto il classico la classica struttura lagata crisi in cui si uniscono i puntini per arrivare alla risoluzione di un mistero in cui tutto viene svelato